Non ci creverete, colori e materiali mixati alla grande. Oggi siamo a Lignano, entrate! Ingresso con armadio nascosto dietro questa noce canaletto. Destra cucina, sinistra salotto. Da dove iniziamo? Cucina. Lignare con anta unica ribalta per aprire e chiudere lo spazio contenitivo. Carta da parati, in fibra di vetro e effetto tessuto color ocra. La cucina ha anche una comoda lavanderia e accesso diretto alla terrazza. Passiamo alla sala da pranzo. Accoglio un tavolo con piano in marmo da otto persone e dietro questa poserie la suite padronale. Diamo un'occhiata. Camera matrimoniale con carta da parati che fa da sfondo a questo bellissimo letto con dog in vista. Bagno in suite tutto suo, ampio e luminoso con una comoda doccia walk-in rivistita di grandi lastre a lasca glossi di cotto d'este. Il mobile con doppio lavabo e ante a specchio bronzato. Ed eccoci nel soggiorno. Denti in metri quadri con un accostamento interessante di colori. Senape, vibrante e luminoso. Verde petrolio ricco e profondo. Grigio neutro con effetto pietra sul pavimento. Contro soffitto con vellette illuminate per un'atmosfera rilassante nel soggiorno. Zona ospiti con camera singola e bagno dedicato. Questo è uno dei 15 progetti selezionati da Spazibelli Open House. Complimenti allo studio! E voi cosa ne pensate?